Salve, sono Petra Petrova, vengo dalla Bulgaria e sono una cantante lirica. Ho sempre cantato con la mia voce naturale e diciamo che fino a un certo punto le cose andavano, però ultimamente avevo problemi con la voce e con la tecnica, molte cose non mi sono state chiare. Ho trovato maestra Chiaudani, ho guardato un paio delle sue masterclass su YouTube e mi è piaciuta molto la maniera in quale lei insegna e ho deciso di fare una lezione con lei. Per me le sue lezioni sono veramente, come direi, mind blowing. È stato tutto molto consistente, preciso e anche ben spiegato come dovrei fare e come non dovrei fare. Che questo secondo me era anche molto importante per me di capire come non dovrei fare le cose. Vorrei consigliarla a persone o a cantanti anche anche in carriera o anche a cantanti che iniziano adesso perché per me è stato un grande aiuto e non aspettate come me di essere confusi e di cercare delle soluzioni da sole perché ci sono già persone che sono arrivati prima di noi. La ringrazio di nuovo e sono contenta che ho iniziato a fare lezioni con lei perché adesso diciamo che ho le idee molto più chiare.